4.000 metri quadrati di suolo pubblico, un centinaio di attività interessate e 300.000 euro in meno nelle casse del comune. Il sindaco di Fano Massimo Seri e gli assessori Cucchiarini e Lucarelli hanno annunciato questa mattina la buona notizia per le attività commerciali. Coloro che nel 2020 avevano ottenuto un ampliamento del suolo pubblico gratuito potranno usufruire anche quest'anno della stessa occupazione senza oneri. Abbiamo fatto questa scelta anche rispetto ad altre realtà, essendoci un DPCM che consentì di fare questo, lo facciamo in maniera autonoma e gratuita, quindi non richiediamo alcuna risorsa per l'ampliamento della tosa. Quest'anno infatti lo Stato non ha previsto alcun ristoro per i comuni, così l'assessore Cucchiarini ha colto l'occasione per sollecitare il governo a continuare a pensare ai territori per riuscire a loro volta ad essere vicini ai soggetti economici che stanno affrontando una crisi senza precedenti. Questo incide sulla finanza locale con risorse proprie di bilancio. Speriamo che comunque come l'anno scorso il governo, appena si sarà assestato, riconoscerà che c'è ancora molto bisogno di essere a fianco delle attività produttive e dei territori e che magari pensi anche quest'anno di ristorarci e di magari sollevare da alcuni tributi o perlomeno una buona percentuale le categorie che sono più sottoposte a pressione fiscale. È un aiuto concreto per le attività, ha aggiunto Eti e Lucarelli, ma anche un investimento per l'intera città. Proseguirà infatti il progetto Fano en plein air che aiuterà anche chi non potrà beneficiare di questa misura. Siamo partiti dall'anno scorso con un progetto che ha funzionato molto bene, ha dipinto una città più bella da vivere all'aria aperta, questo progetto Fano en plein air e riteniamo proprio che anche quest'anno debba esserci. Quindi il Comune di Fano farà la sua parte in supporto delle attività economiche, ma soprattutto questo investimento aiuterà a dipingere un nuovo progetto che aiuterà tutta la città, tutti gli altri comparti economici. L'idea è portiamo gente nella città di Fano, facciamo vedere quanto la nostra città è bella e quindi portiamo economia, facciamo girare economia nel nostro territorio.